Sappiamo tutti perché vi iscrivete in palestra, per la topa ragazzi! I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Headin' to her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with the hands on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin' She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely Yeah, I heard you look up in a sun dress Una faccia imbarazzante, sono stanco morto, nonostante non faccio un cazzo perché sono in ferie ragazzi No, a parte gli scherzi Sicuramente ognuno di noi si è iscritto in palestra per una motivazione diversa Io per esempio volevo dimagrire, volevo diventare un po' più muscoloso Tra l'altro era un periodo in cui guardavo il wrestling, quello amatoriale che vedete in tv Avevo come fonte di ispirazione gente come John Cena per fare un nome Sono tutti belli, muscolosi, potenti, forti E allora la mia idea era di iscrivermi in palestra e diventare come uno di quelli Al contrario di molti che si iscrivono in palestra Giusto per magari tonificare un pochino e fare cardio sei ore a settimana E te invece Ale, com'è ti sei iscritto in palestra? Allora io ho iniziato tutto i primi anni, mi ricordo, vabbè l'obiettivo era trovare la ragazza, no? Come tanti Comunque si torna indietro di tanti, anni fa ero ancora alle medie quindi E la mia credenza ai tempi, non quella della cucina, eh Era di fare tanti addominali perché diventavo grosso, no? Quindi mi spaccavo di addominali, facevo mille addominali ogni giorno, ma davvero Ma folle, ma lì ancora prima di iscrivermi in palestra Quindi ho iniziato tutto da lì Iniziare a fare un po' di addominali perché volevo diventare più bello, più forte Ancora la dieta non esisteva, quindi mangiavo ogni cosa Quello che capitava, quello che cucinava la nonna principalmente, perché ero al mare E poi ho iniziato da lì a fare un po' di flessioni Ho preso i primi pesini, quelli delle donnine con dentro la sabbia E vabbè, da lì è nata tutta la, tra virgolette, l'inizio della passione per la palestra E mi sono iscritto in palestra E il mio obiettivo principale era di migliorare un po' la mia condizione fisica Giustamente senza avere conoscenze perché in quel periodo forse non esistevano ancora canali YouTube C'erano pochissimi forum che ne parlavano, tipo di building o palestra Quindi andavi in palestra appunto e basta senza menere, senza sapere cosa fare Quindi mi ricordo c'erano i forum Si Però Su YouTube c'era qualche americano che le faceva però capisci che ha le mie delle superiori Che non sai un cazzo di inglese perché qui in Italia sono proprio Tu almeno l'inglese lo sai, adesso io ancora con l'inglese porca tra l'accia Ciao Niente comunque la palestra a meno sotto il mio punto di vista a me ha aiutato molto A livello di sicurezza perché vabbè ovviamente se non sei Se non hai un bel fisico secondo me a meno che non hai proprio una testa fatta giusta Non hai molte sicurezze perché sul tuo corpo magari ti senti un po' incerto Ma anche per approcciare con le ragazze piuttosto che farti vedere in pubblico al mare, in piscina Io mi vergognavo un po' Poi io sono uno che appena mi guardano tutti divento tutto rosso e mi esplode la testa E mi ha aiutato molto Prima non riuscivo neanche a parlare con una ragazza Non potevo neanche pensare di parlare con una ragazza che mi bloccavo, mi paralizzavo Adesso invece un po' col fatto che sono migliorato esteticamente Quindi magari un pochino la gente in palestra ti guarda, ti lancia gli occhiatace Ma maschi, femmine, tutte e due Ma tu sei già fidanzato però No vabbè sì, adesso sì Però mi ha migliorato molto sotto il punto di vista dell'interagire con le persone Quindi nel parlare anche in mezzo alla gente E mi ha aiutato Tanto è vero che stiamo parlando davanti alla telecamera Prima non avrei mai pensato di farlo E mi ha aiutato molto dal punto di vista della timidenza Quello tantissimo Infatti io consiglio Se sei timido Se hai problemi davvero di interagire con le persone Tu vai in palestra Magari non parli con nessuno per un mese Ma prima o poi Qualcuno ti chiederà qualcosa Dovrei chiedere qualcosa a qualcuno E lì comincerà a interagire E non potrei più farne a meno No è vero Dal punto di vista della sicurezza Insiste più che altro Prendi autostima Effettivamente facendo palestra Vai a costruire il tuo fisico Se come dicevi tu prima Ale Non ti sentivi a tuo agio Anche io ai tempi Mi inchiacciavo una pancia Quindi non è che mi sentivo molto a mio agio Non che adesso non abbia la pancia Però vabbè È una pancia diversa Perché con la dieta sei giusta a tutto Ovviamente ci sono i vari periodi Quindi nessun problema Però era proprio un discorso differente Cioè prima avevo quasi C'avevo vergogna proprio a togliermi la maglietta Ai tempi Mi ricordo andavo in spiaggia E me la tenevo E quando non entravo in bagno E vabbè Sono periodi Comunque Sì È nato tutto da lì Possiamo dire che è nato tutto da lì E ci ha aiutato tanto Ormai sono sei anni che ci alleniamo Lo saprete già Ormai ve lo diciamo in questi tutti i video E Penso che Non smetteremo mai di allenarci A meno che non succeda qualcosa di davvero grave Sto toccando le palle E niente Adesso Dai fino a 80 anni Se reggiamo magari Cioè si può fare Sì andremo avanti Niente ragazzi Se volete dirci qualcosa Scrivetelo direttamente giù nei commenti Fica qua Finiremo fuori strada un giorno Lasciate un like se vi sono piaciuti i culi nel video Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Qui sotto Schiacciate il pulsantino E quindi Prossimo video Grazie a tutti